VVF e Legambiente hanno presentato il proprio ricorso al TAR in appoggio a quelli degli enti pubblici e comune di Sulmona e Regione, in primis contro la centrale di spinta con il connesso metanodotto che Snam vorrebbe realizzare in zona sismica 1, dicono le associazioni ambientaliste, nonostante l'opposizione di cittadini e istituzioni. Il delegato abruzzo del VVF Luciano Di Tizio, il presidente regionale di Legambiente Giuseppe Di Marco e l'avvocato Francesco Paolo Febbo, che ha curato il ricorso, hanno illustrato alcune delle criticità segnalate nel ricorso stesso. Sì, è un impegno che abbiamo preso con il territorio, con i 26 sindaci, con la Regione Abruzzo, con i cittadini, tutti che hanno partecipato alla manifestazione contro questo progetto che riteniamo inutile fuori mercato e al tempo stesso danno a superare il territorio. Ci aspettiamo che il TAR prenda in considerazione le ragioni nostre, che poi sono le ragioni di un territorio e possiamo finalmente andare oltre la malaugurata ipotesi di una realizzazione non solo della centrale ma dell'intero gastotto. Tra le criticità segnalate, dice l'avvocato Francesco Paolo Febbo, si è seguita una procedura dal nostro punto di vista non proprio corretta, perché non vi è stata una valutazione di impatto ambientale strategica e complessiva, ma tante valutazioni di impatto ambientale distinte per tratti. Questo fatto, peraltro, è stato ripetutamente contrastato anche dalla Corte di Giustizia europea che ha ritenuto illegittima questa procedura. Inoltre, nel ricorso abbiamo evidenziato alcuni aspetti prettamente ambientali, cioè che quest'opera dovrebbe essere realizzata all'interno del Parco della Maielle, di altre zone sensibili del nostro territorio regionale, e andrebbe a creare gravi problemi per alcune specie animali, tra cui l'orso Bruno Marsicano. In ultimo, abbiamo anche evidenziato il fatto che quest'opera potrebbe essere pericolosa per l'incolumità delle persone, poiché dovrebbe essere realizzata in una zona sismica 1, quindi ad alto rischio. Che non ci sia un discorso economico dietro è assurdo.